ragazzi eccoci eh ci siamo siamo arrivati andiamo mamma mia mamma mia salve 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 signorina salve salve andiamo occhio lo scadino dove andiamo ascensore ascensore quarto piano andiamo al quarto piano quarto piano quarto le cassetta di sicurezza mazza come stanno davanti qua mamma mia non possiamo far vedere il codice eccola chi salve 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 sera sera mamma mia mazza oh madonna me trasferisco qua oh bello oh pure il lettino per camilla guarda che carini amore ti hanno appiccato al muro a te eccola il piedino il piedino e questo piedino però mamma camilla sembra che sta a carica ma no 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 sta a pezzi alice sta a peggio di camilla io diciamo che se mi appoggio finisco per svenire qua mazza facciamo pure i cuscini tutto ci abbiamo asciugamani tutto e ci vediamo più tardi ciao allora ragazzi volevo fare un video a parte e farvi un tour di questo splendido appartamento bellissimo ma è uno stile che mi piace tanto tant'è che volevo farci la sala hobby cioè è bellissimo una cosa clamorosa allora per accedere al palazzo innanzitutto c'è bisogno di un codice che viene messo giù tipo una specie di mini citofono digiti il codice ti dà l'accesso al palazzo poi la chiave viene conservata in queste cassette di sicurezza possiamo chiamarle così eccoli qui ogni stanza c'è la sua la nostra era questa loro ti danno un codice e poi si apre bellissimo guarda poi entriamo ci troviamo innanzitutto è climatizzato abbiamo questo tavolino molto carino con questo lampadario poi qui abbiamo un mini balconcino qui fuori adesso è sera poi abbiamo questa splendida delisione una samsung con il braccio che si allunga si gira a destra e a sinistra poi questo forno e letto amico onde e questo forno e letto elettrico se ne sono due ecco qua lavandino due sgabelli poi abbiamo un mini frigo qui abbiamo un cestino e qui vari cassetti come posate ventole e altri attrezzi poi divano tavolino due quadretti faretti 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 poi qui abbiamo ragazzi una porta lì c'è una porta si intravede ma è bellissimo perché è fatta proprio bene tant'è che la linea di della porta dal muro non si vede qui si vede solo qui sopra e è bellissimo beh guarda gliel'ho detto subito Alice dobbiamo fare un video a parte perché è bellissimo poi entriamo nella camera abbiamo questa splendida camera ecco qui ventilatore materasso letto matrimoniale poi ci hanno dato la culla gratis per la bimba questo toro abbiamo questo mobiletto qui per le scarpe poi abbiamo il bagno ragazzi bagno altro punto forte perché abbiamo una doccia immensa ecco qui viveria K2 bellissimo appartamento fantastico ragazzi veramente lo stile che piace a me perché è color legno e nero proprio come lo voglio io e poi c'è questo fantastico legno sulla porta clamoroso clamoroso e l'appartamento è situato al centro storico di Valencia e niente ragazzi vi darò le info in descrizione la scimmia canta carica non si sa se non hanno le 10 e lei balla carica fichemai e niente ci vediamo nel prossimo video ciao ciao Grazie a tutti.